Ovviamente c'è un tema di approvvigionamento, naturalmente noi non sappiamo che cosa sarebbe accaduto se l'Italia si fosse mossa sul mercato internazionale da sola e non attraverso l'Unione Europea, questa prova non l'abbiamo. È chiaro che alcune regioni fanno bene a lamentare l'assenza di rifornimenti che contrasta con la loro capacità di vaccinare, almeno così si evince da alcuni numeri e da alcune dichiarazioni. Rimane sempre il problema di quelle regioni che non riescono a tenere un ritmo sufficientemente elevato di vaccinazione. Qui è un problema aperto, mi sembra che ci sia, insomma c'è anche un tema di responsabilità. Perché non riescono a fare tutte queste vaccinazioni? Perché poi alla fine c'è una quantità, se non sbaglio, perché poi qui siamo diventati tutti esperti ma non lo siamo, e dobbiamo anche limitarci nelle nostre dichiarazioni. Però mi sembra di vedere dei numeri che ci sono, certo in attesa della seconda, ma se a un certo momento ci sono delle scorte in alcune parti del nostro paese ancora rilevanti. Beh, insomma, forse alla fine se non riescono a farle lì, li facciano da qualche altra parte. Anche perché, scusami Ferruccio, sulla storia della seconda dose, perché molte giorni non ne siamo più previdenti, riteniamo. Adesso oggi, per esempio, Speranza ci dice che le seconde dosi di Pfizer e Moderna possono essere fatte dopo 42 giorni. Cioè cambiamo idee in continuazione. Ora per carità, la scienza va avanti. Però, Mirta, bisognerà tenere conto che ci sono ovviamente delle disposizioni, poi non so, mi sembra che lei, ma poi e anche un po' le autorità in generale abbiano creato delle confusioni con i propri annunci, insomma. Però forse un po' di prudenza nell'impegnarsi nel dire arriveranno tante... Cioè, forse un po' meno di interviste, un po' meno di annunci sarebbe forse più semplice. Metterebbe anche i cittadini nella condizione di crederci di più. Mentre siccome sono spesso smentiti dai fatti, è chiaro che questo crea una sorta di sfiducia ingiustificata, ingiustificata, perché invece forse sarebbe il caso di dire cerchiamo di vaccinare il più possibile le persone fragili e poi rendere possibile anche quelle deroghe che credo, anche qui... Allora, io direi che... Che credo siano possibili per favorire un'offerta turistica migliore. L'appello di Ferruccio lo sottoscrivo. Meno parole più vaccini, sentite Zerè, perché a questo punto li vogliamo vedere. Vogliamo vedere le dosi? Basta con le parole. Nel frattempo vi porto un momento a salve.